21 gennaio 2019 è la data che segnerà la nascita a Milano della LEZ, la Low Emission Zone, o zona a bassa emissione di inquinanti, con la conseguente introduzione del divieto di circolazione in città alle auto diesel. Ad annunciarlo è stato ieri il sindaco Giuseppe Sala. Interesserà un'area di 136 km2 circa, pari al 70% del territorio e al 98% della popolazione del capoluogo lombardo ed entrerà in vigore gradualmente. Inizialmente, dal 21 gennaio 2019, lo stop riguarderà solo i diesel Euro 1, 2 e 3. Successivamente, ad ottobre 2019, saranno fermati anche gli Euro 4. Saranno 180 i varchi di accesso all'area, tutti controllati da telecamere, ma anche queste entreranno in funzione in tempi diversi. Entro il 21 gennaio saranno attivate solo le prime 12 telecamere e posata l'intera segnaletica. L'intero dispositivo entrerà in funzione con tutte le telecamere entro i primi mesi del 2020. Una massiccia campagna informativa dal 7 al 20 gennaio 2019 farà conoscere ai cittadini e a chi entra in Milano per lavoro e turismo tutti i dettagli del provvedimento, che rientra nel nuovo piano comunale per la mobilità e mira a ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla salute dei cittadini del traffico inquinante.